Signori e signori, Andrea Di Prè intervisterà il primo limono sul web di Giuseppe Simone con mia sorella. Allora, gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Prè, assisteremo adesso a questa scena importantissima e sibanitica di Giuseppe e Simone che sta per... come possiamo dire Giuseppe? Mimonale, Mimonale, Pornoromanticamente, 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 con il nome Cutre, assistiamo a questo grande evento, sentite la spettura di Prè per le sociali, prego. Vieni a stare a guardia, complimenti ai suoi anni. Fantastico, grande. Signore e signori, un uomo che venderebbe la sorella. E ho vinto la sorella! E un saluto a tutti voi dalla città di Sipari.